Alla Dispoli tra qualche giorno sarà operativo il commissariato di Polizia di Stato che sarà guidato dal vicequestore aggiunto Federico Zaccaria, 47enne, con alle spalle esperienze nei reparti anticrimine della capitale. Saranno circa 60 gli uomini in servizio tra sovrintendenti, ispettori e agenti e il territorio di competenza sul quale opereranno sarà composto da La Dispoli, Cerveteri, Bracciano e Manziana. Dunque anche per istruire pratiche come passaporti o portodarmi i cittadini non dovranno più recarsi a Civita Vecchia. Sotto il profilo della sicurezza invece i territori saranno vigilati e controllati giorno e notte nel prevenire reati come furti, risse e spaccio. Buone notizie anche per la nuova caserma dei carabinieri che sorgerà tra il quartiere Cerreto e quello del campo sportivo. Manca solo qualche dettaglio, entro un mese sarà operativa.